Il 17 novembre 1950 nasce l'attore e regista Carlo Verdone. La sua carriera nota al grande pubblico inizia in particolare con la trasmissione comica Non Stop, dove interpreta diversi personaggi che lui ha ripreso osservando nella sua città Roma i diversi tipi umani prendendoli dalla strada. E questa caratteristica dei tipi umani raccontati attraverso l'interpretazione di Carlo Verdone sarà poi continua in tutti i suoi film, passando dal registro più comico e scanzonato a quello anche più interessante, più impegnato, dove magari prevale l'aspetto del cinismo oppure l'osservazione comunque della realtà. Carlo Verdone tra i suoi film più importanti, Annovera è il primo, è un sacco bello, poi altri come Bianco, Rosso e Verdone, oppure Compagni di scuola, tra quelli più impegnati e anche Maledetto il giorno che ti ho incontrato. È stato paragonato Verdone anche ad Alberto Soldi per la sua capacità di riprodurre le macchiette, i personaggi caratteristici di Roma. In realtà i due hanno girato anche due film insieme, Il viaggio con mio papà e Troppo forte. Ed erano diventati grandi amici, tanto è vero che Carlo Verdone ha raccontato di come Alberto Sordi era solito ogni mattina stare davanti alla statua dell'immacolata che si trovava nel giardino della sua casa, lanciandole un fiore e innalzando lei una preghiera. A proposito di fede anche lo stesso Carlo Verdone, sempre ha dichiarato cattolico, anzi parlando di se stesso e della sua fede così ha dichiarato Io sono un credente, ma con centomila punti di fragilità, con diecimila incertezze. La fede per me è un rincorrerela continuamente e quindi un interrogarti dentro.